Questo campionato italiano ci ha portato comunque a delle bellissime soddisfazioni perché numero uno abbiamo concluso secondi in generale dietro a Zennaro, Maliac, quindi un mind the gap in generale quindi comunque già un ottimo risultato perché sapevamo che sarebbe stato molto difficile solo pensare a puntare un primo posto quindi siamo molto contenti del secondo posto, penso che non sarebbe potuto andare molto meglio di così e in più abbiamo vinto anche la categoria Corinthian quindi quello che potevamo fare l'abbiamo fatto e siamo contenti dei risultati Dedico questa vittoria al nostro equipaggio che continua a crescere col tempo e spero a portare grandi soddisfazioni